Buongiorno da... Oggi non ci sarà alcuna lezione di dizione né di pronuncia. L'unica cosa che voglio dirvi è questa. Ci hai rotto i coglioni, Marco. Ci hai ufficialmente rotto i coglioni! Sì, perché chiudere le scuole, perché i mezzi pubblici non sono adeguati, è la più grande porcata che si possa fare. Perché se è vero che questa pandemia ci ha cambiato il modo di vivere, è anche vero che dovremo convivere con essa, per sempre. Perché vivere con un'istruzione dimezzata, senza socialità, senza teatri, senza lo sport, e senza poter giocare con gli amici, non è una vita che ci piace vivere. Perché questa vita, vi piaccia o no, ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare. Diventerà freddo e morirà. Rinsavite! O se non voi, almeno quelli che in voi credono. E voi, ragazzi, giovani generazioni che siete l'ultima speranza per questo mondo che vi stiamo lasciando, fatevi sentire. Vi prego, fatevi sentire forti. Ciao.